lei è la GLE una delle punte di diamante della gamma SUV di Mercedes che nel 2023 si è aggiornata nel classico restyling di metà carriera è cambiata nel design sia fuori che dentro ma soprattutto sotto il cofano con i motori che adesso sono tutti ibridi sia benzina che diesel questa in particolare la 450d un gran motore scopriamola insieme ma prima non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale youtube attivando anche la campanella fuori com'è le linee morbide le forme levigate e muscolose non mascherano le dimensioni importanti della GLE che lunga più di 4 metri e 90 circa 1 e 95 specchietti esclusi di larghezza e alta 1 e 80 è maestosa e ancora più elegante con quest'ultimo aggiornamento che ne ha modificato pochi ma importanti dettagli a cominciare dal paraurti anteriore con degli inserti del colore della carrozzeria arrivando ai fari dalla nuova firma luminosa con questa a 4 punti luce che rende riconoscibili le versioni che hanno in matrice di led anche dietro sono stati aggiornati i gruppi ottici così come il paraurti nel profilo inferiore dell'estrattore su questo esemplare i cerchi sono da 21 pollici vanno da 19 a 22 e i passaruota sono dello stesso colore della carrozzeria ci sono però elementi che richiamano al mondo del fuoristrada come le pedane laterali e le barre sul tetto e dentro beh che dire i presupposti trovano conferma non appena ci sia comodo a bordo la gle è super spaziosa e si viaggia comodissimi il bagagliaio poi è grande nella media della categoria sono 630 litri di capacità minima a disposizione che scendono a circa 500 sulle versioni ibride plug-in la soglia è alta ma se ci sono le sospensioni pneumatiche può essere abbassata per facilitare le manovre di carico lo spazio in generale è molto ben rifinito e regolare nelle forme con una retina laterale e una serie di anelli di ganci e una 12 volta a disposizione sotto il piano c'è un doppio fondo molto grande che può essere ampiamente sfruttato e in cui entra la cappelliera una volta tolta e gli schienali della seconda fila possono essere abbattuti in configurazione 40 20 40 accomodandosi dietro si apprezza subito lo spazio a disposizione che è tantissimo anche per i più alti considerate che io supero il metro e 90 in tutte le direzioni i sedili sono morbidi e comodi compreso quello centrale per cui si può viaggiare in cinque senza problemi o se sia in quattro sfruttando il bracciolo che ha anche due portabicchieri integrati sul tunnel ci sono la plancia da cui regolare la climatizzazione e le bocchette dell'aria un vano e due prese usb c sui montanti poi si trovano altre due bocchette extra è fatta bene sentite il suono della portiera secco corposo trasmette quell'idea di pesantezza e quindi di sicurezza la gele è fatta molto bene sia per quanto riguarda la scelta dei materiali di rivestimento che la solidità degli assemblaggi e poi anche l'occhio vuole la sua parte e qui tra design e tecnologia ne esce sicuramente appagato i protagonisti sono gli schermi di strumentazione infotainment poggiati sulla console e incastonati all'apparenza all'interno di una griglia che richiama le bocchette dell'aria l'aggiornamento del 2023 ha portato con sé il nuovo volante a razze sdoppiate e nuove possibilità di personalizzazione dei materiali e dei rivestimenti della plancia a cui si può attingere grazie al programma manufacture della casa l'ambiente è curato e super rifinito i materiali tutti di ottima qualità anche quelli nelle parti più basse e nascoste dell'abitacolo e si ha sempre una bella sensazione di ariosità grazie al grande tetto panoramico apribile i sedili sono morbidi e l'attenzione al dettaglio maniacale vedi per esempio le casse dell'impianto audio burmeister a 13 altoparlanti e 590 watt di potenza che suona benissimo con assemblaggi ottimi ed elementi come le maniglie al centro del tunnel che richiamano al mondo del fuoristrada lo spazio quindi non manca anche per quanto riguarda i vani portaoggetti le tasche nelle portiere e quello nel bracciolo centrale sono mediamente grandi in quest'ultimo c'è anche una presa usb c così come il cassetto davanti al sedile del passeggero che nasconde all'interno la boccetta per il profumo ambientale dell'abitacolo oltre ad essere dotato di serratura sul tunnel sotto una paratia mobile ecco i due portabicchieri che possono essere riscaldati o rinfrescati vicino alla piastra per ricaricare il telefono ad induzione a due prese usb c e una 12 volt come funziona l'infotainment lo schermo centrale è da 12,3 pollici ed è posizionato in alto sulla console sulla stessa linea della strumentazione anche lei completamente digitale il sistema e l'evoluzione dell'MBUX tra i migliori in circolazione per grafica e fluidità connesso alla rete e gestibile attraverso i comandi vocali che si attivano con la parola d'ordine e i mercedes e recepiscono anche input più complessi come quelli legati ad una richiesta di cambiamento della temperatura di bordo lo schermo è touch ma può essere controllato anche dai tasti a sfioramento sul volante o dal pad al centro del tunnel che ai lati può contare anche su scorciatoie fisiche per muoversi da un sottomenu all'altro le icone sono grandi e colorate e il sistema è compatibile con apple carplay android auto da qui si gestisce praticamente tutto dalla multimedialità alla navigazione passando per gli assistenti alla guida per le impostazioni relative al fuoristrada e per quelle del comfort di bordo con programmi dedicati a relax in viaggio che sfruttano i movimenti del sedile la profumazione ambientale e l'impianto audio per vere e proprie esperienze immersive il dialogo con la strumentazione dietro il volante poi è totale questa è sempre chiara e mai satura di informazioni e può essere personalizzata in ogni minimo dettaglio se ho dei bambini l'angolo di apertura delle portiere è buono e l'altezza da terra generosa facilita le manovre con il seggiolino con gli attacchi isofix che si trovano a colpo sicuro ma solo sui sedili posteriori laterali sono coperti da un tappo che bisogna stare attento e non perdere dietro gli schienali ci sono due retine i finestrini scendono del tutto e nel bagagliaio il nostro passeggino pieghevole di cui trovate le specifiche in descrizione entra in tutte le direzioni. Com'è da guidare? Siete mai stati in uno di quegli studi di registrazione completamente isolati dall'esterno? Ecco sulla GLE ci si sente proprio così sembra di viaggiare su un'altra lunghezza d'onda più alti delle auto intorno e in uno stato di assoluta rilassatezza sia per quanto riguarda la leggerezza e la fluidità dei comandi sia la risposta dell'auto stessa. Questo non vuol dire che non sia un'auto impegnativa perché in città gli oltre 4 metri e 90 di lunghezza e i quasi 2 di larghezza si sentono tutti quando ci si deve infilare nelle strade più strette o muoversi nel traffico. La macchina però è agile perché può contare sul sistema 4 ruote sterzanti con quelle dietro che a bassa velocità girano in controfase rispetto a quelle davanti accorciando virtualmente il passo. È comodissimo poi avere sul piantone dello sterzo la leva del cambio perché permette di essere più veloci nelle manovre più concitate e anche la visibilità è molto buona perché le superfici vetrate sono ampie, la linea di cintura è bassa e anche gli specchietti sono grandi. Nelle manovre poi di precisione per cui nei parcheggi è utilissimo poter contare sui sensori perimetrali e anche sul sistema di telecamere a 360 gradi che hanno una risoluzione davvero nitidissima. Sembra di viaggiare quindi in una bolla e questo senso di levitazione reso possibile grazie anche alle sospensioni a controllo elettronico pneumatiche che possono essere alzate o abbassate a seconda delle situazioni o se si butta la GLE in off-road. In città e alcune strade di Roma ricordano un po' qualche percorso in fuoristrada si passa sopra le buche sul pavè sulle rotaie come se nulla fosse e in abitacolo non arrivano né scossoni né vibrazioni di alcun tipo. Questa fluidità poi è resa possibile anche dal cambio automatico a 9 marce che è sempre fluido e preciso e con questo motore si trova alla perfezione. Si tratta di un 3000 a 6 cilindri turbodiesel con tecnologia mild hybrid per cui è omologato come ibrido e in alcune città può anche parcheggiare gratis sulle strisce blu da 387 cavalli complessivi e udite udite 750 newton per metro di coppia massima che sono uno sproposito e permettono a questa GLE di muoversi con un filo di gas a vantaggio del comfort e dei consumi sfruttando le marce alte. Le prestazioni poi non sono per niente male perché scatta da 0 a 100 in meno di 6 secondi con una velocità massima di 250 all'ora. Tornando all'assetto quando si alza il ritmo alla guida questo può essere irrigidito andando ad intervenire sulle diverse modalità di guida ce n'è anche un individuo al completamente personalizzabile per andare a limitare quell'inevitabile rollio che ci si aspetta e si trova su un'auto del genere da oltre 2200 kg di peso. Riesce però a contenere molto bene i movimenti di cassa con la GLE che è più affilata tra le curve di quanto si possa immaginare in merito anche di un anteriore che è sempre stabile e di uno sterzo che è pesante il giusto non diretto ma progressivo e lineare. Alla guida l'elemento che mi ha convinto di meno è il freno perché il pedale ha una corsa lunga e bisogna premere tanto per garantire la giusta decelerazione soprattutto alle alte velocità. E' proprio questo però il contesto, quello autostradale a fare della GLE la macchina praticamente perfetta su cui viaggiare. E' comodissima e super insonorizzata e questo vale sia per il rumore del motore che per quanto riguarda i frusciero dinamici e il rotolamento delle gomme. Quanto consuma? In città si fanno poco più di 8 chilometri con un litro di gasolio. In autostrada a velocità di codice si sta sui 13 e mezzo mentre in extraurbano si possono superare i 17. Il tutto per una media di circa 12 chilometri al litro che corrispondono a 8,4 litri ogni 100 chilometri. E la sicurezza? La Mercedes GLE ha conquistato nel 2019, anno dell'ultima valutazione, 5 stelle euro in cap con una percentuale del 91% di efficacia relativa alla sicurezza degli occupanti adulti, del 90% di quella dei bambini e del 78% dei pedoni. Quest'ultimo stesso risultato della valutazione complessiva legata ai sistemi di assistenza alla guida. La dotazione deve essere integrata perché di serie ci sono solo quelli di base. A parte che sull'allestimento top di gamma su cui non bisogna aggiungere niente, su tutti gli altri bisogna mettere in conto per avere tutti gli ADAS almeno 2.400 euro in più, ma ne vale assolutamente la pena soprattutto per un'auto da rango e dall'indole da viaggiatrice come questa GLE. Funzionano tutti benissimo e si attivano dalla razza sinistra del volante e in particolare mi ha convinto la sinergia tra il cruise adattivo e il mantenitore attivo della corsia che riesce a tenere l'auto esattamente al centro delle linee senza la minima incertezza. Per ultimi ma non per importanza i fari a matrice di LED, che secondo me sono tra i più efficaci sul mercato, fanno tantissima luce e sono anche rapidi ad accendersi in modalità automatica. Quanto costa? La Mercedes GLE ha un prezzo di listino che parte da circa 84.000 euro per la 300D a gasolio mild hybrid da 289 cavalli in allestimento base advanced con il diesel più potente, quello di questa prova, da circa 97.000. Ci sono poi tre benzina e si passa dai 94.500 del 450 da 401 cavalli alle due versioni più sportive firmate AMG da 435 e 634 cavalli. Per queste bisogna mettere in conto almeno 123 e 157.000 euro rispettivamente. Per ultime, ma non per importanza, le hybride plug-in sia benzina da poco più di 98.000 euro che diesel con la 350DE che parte da circa 94.800 euro. Ah, cosa importante, tutte le versioni hanno di serie la trazione integrale 4MATIC e possono essere scelte in configurazione a 7 posti per circa 1.100 euro in più. Sono 5 o 6 invece gli allestimenti disponibili a seconda della motorizzazione scelta, con una differenza tra il base e il top di gamma che va da 16 a 21.000 euro. Per avere un termine di paragone, questa 450D che vedete nelle immagini, una AMG Line Premium quasi full optional, sfiora ai 110.000 euro. Rispetto al passato, il listino Mercedes è stato semplificato, con la gamma allestimenti che è stata riorganizzata con dotazioni già complete e differenziate, in modo tale da garantire il valore futuro dell'auto. Gli optional singoli ci sono, ma sono di meno. Fin dalla base si trovano di serie i cerchi da 19, i fari a LED multibeam, la predisposizione per Apple CarPlay e Android Auto e i sedili anteriori riscaldabili e ventilati. Su questa il tetto panoramico costa circa 2.000 euro, l'head-up display 1.3, i sistemi di assistenza alla guida 2.400 e le sospensioni pneumatiche 2.200. Per quanto riguarda gli allestimenti, si può puntare direttamente ad uno intermedio AMG, per avere una GLE sia più completa in termini di dotazioni che più appagante esteticamente. Tra i motori invece più interessanti sono sicuramente i due ibridi plug-in, sia benzina che diesel. Difetti? La Mercedes GLE è fatta benissimo, per cui in questo caso è particolarmente difficile trovarle dei contro, non potendo parlare di veri e propri difetti. Se si guida, non arretrando troppo con il sedile, la parte destra della corona del volante copre la zona sinistra dello schermo dell'infotainment, obbligando a spostare la testa. Poi nel bagagliaio sulle versioni base non ci sono tasti o leve per abbattere gli schienali della seconda fila di sedili. Quali sono le alternative? La rivale diretta della GLE da oltre due decenni è la BMW X5, con l'Audi Q7 che è arrivata qualche anno più tardi, che a parità di motorizzazioni e dotazioni è di qualche centimetro più lunga. Possiamo poi tirare in ballo modelli come la Maserati Levante, la Volkswagen Touareg e la Volvo XC90, oppure per blasone e sportività la Range Rover Sport e la Porsche Cayenne. Insomma, anche nel segmento dei SUV premium c'è l'imbarazzo della scelta, per cui fatemi sapere voi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate e quale prendereste. Se si pensa a un SUV di lusso o a un SUV premium nel vero senso della parola, non si può non tirare in ballo Mercedes con la GLE che ormai da anni e anni è uno dei punti di riferimento assoluti della categoria. Da fuori è elegante, passa inosservata, con classe, dentro è fatta benissimo riuscendo a sposare alla grande tecnologia e ricercatezza dei materiali. È un modello che fa della poliedricità la sua forza, è comoda su strada, si guida bene e riesce alla grande in off-road e sotto il cofano la gamma motori è super completa tra benzina e diesel, tutti ibridi tra mild e plug-in ricaricabili.